Se volete acquistare crediti andate su www.footmart.com e con il codice DRED Avrete uno sconto incredibile Bene ragazzi e bentornati qui sul mio canale Oggi dopo che avete visto la squadra giamaicana E' partito il kebab M'è salito popo il kebab M'è salita la salsa piccante M'è salita pure un po' di maionese perché signori Andiamo a fare la squadra del Marocco Signori la squadra del Marocco come potete vedere In porta c'è Ansif Nome Mohamed Strano Terzino destro Poi c'è lui Lui è il brasiliano della squadra E' Manuel da Costa Quell'altro DC signori Il mercenario Lui dal nome improdunciabile A caso come hanno fatto così su la tastiera Cc signori Inizia la skill Con Tarab Altro cc Che significa ciccione E' barrada E poi c'è lui Lui è il kebabaro di Fontenuova Anche un po' di Monte Rotondo Bussufa E poi il trio d'attacco Con Medicarsela Gonzales Quattro stelle di skill AS signori Usama Saidi Tutto attaccato E poi c'è la tt Che è la bia Zaccaria Zaccaria si chiama Quando è Zaccaria? Del 93 Taccito del più piccolo Questa è la squadra Che andiamo ad usare Tre stelle e mezzo Ovviamente si chiama che babba Andiamo a cercarci La partita non da qui Perché da qui non si può Trovate Partita single online E vediamo un po' di fare Un po' di culo al mondo Ok signori Abbiamo trovato il nostro avversario Due stelle e mezzo Vediamo se è Abbordabili o meno Silverstar Quindi ci avrà tutti Argentoni baggatissimi Vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa Dobbiamo vincere in forza Ragazzi Dobbiamo vincere tutto Dobbiamo far vedere Vincere sul mondo Actao Fallo partire Actao Sei lento Basta che babb C'ha 4 stelle La biata è vero C'ha 4 stelle C'ha 4 stelle C'ha 4 stelle Nooo Esagerato Ho sbiellato Vedi che esagero sempre Odio è morto Ragazzi Stanno a morire tutti Nella sua partita Come on Gonzales Non è fuori gioco eh Non è mai fuori gioco questo Ha sbiellato No ragazzi Questi hanno le magliette verdi Si confondono col campo Partita la skill run di Busufa Skill run di Busufa In realtà non è skill run Perché è morto È morto Passa la grande Busufa Partito 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 Merda Ma raga Non ci sta a capire niente a nessuno Calcola Non ci ha mai capito niente a nessuno Che stop era Più lento mi raccomando Fallo partire Fallo partire a Saidi Vai a Saidi che parti Come on è partito a Saidi A Saidi A Saidi A Saidi A Saidi A Saidi Più ha conto a Saidi A Saidi Come cazzo sei lato Come l'ha sbarcato signori Il doppio passo C'ho bello C'ho bello anche a giro A giro sul secondo Che bab uno Sbarra zero Merda tarabto Cazzo tarabto La lascia La lasciata Non gli piaceva calcola Non gli è mai piaciuta A Saidi A Saidi con elastico Mio dio Grande intervento Grande intervento Vai a Saidi ancora E' man of the match A Saidi ragazzi E' man of the match A Saidi A Saidi è man of the match Chiaramente è man of the match E' madonna Non è morto Cioè non è fallo Non è morto Vai così Vai così sei solo Sai allo No l'ha parata Non ci credo No gliel'avevo presa raga No gliel'avevo presa Non puoi fischiare la fine così Non la puoi fischiare Comunque 1 a 0 a fine primo tempo 4 diria 2 Meritato Meritato Abbiamo pure il possesso palla Sdrogo Partimi sulla far Ma che passaggio è Ma c'ha la pressione a meno 2 Occhio che mi parte Grande intervento Non ci credo Che c'è così tanto Merda No 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 Non la perdere così Non la perdere così Non la perdere con il lag Esci porti a pia L'ammortaggio da Centrale Centrale GDM GDM Fallo No mio dio Come me l'ha levata Bella Bella di testo Si va beca preso raga Si è rotto uno pure nostro No 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 Centro 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 Merda Mi pare normale raga Quello 88esimo fa schifo Qua Tutti che cascano E mia Tutti che cascano Raga Tutti che cascano Cosa stanno facendo Cosa stanno facendo Ditemi cosa stanno facendo Io cerco di capirlo Ma non riescono a pia la palla Non la riescono a pia la palla Godo che ha fischiato Rocco 2 o Ha fatto un tiro in porta Un tiro in porta ha fatto Questo è il secondo te Uno Rigioco Guarda che si scontrano i miei Oh mio dio Cambiamo il giocatore Uno che si insegna Niente Niente Non passa una palla Stanno i mille dappertutto Mille dappertutto Sti pezzi di merda Fischi alla fine Si vede i rigori E perde i rigori E un tico si traversa Godo Dove ho tirato Ma guarda Neymar Come cacciavano l'ha trovata questo Ma poi non posso non lagga tutte le partite Fai così Let's go È partito È partito Passagliela Ottima Mettila in mezzo Oh mio dio Segna Ti prego Segna Con lagga Incredibile 1 a 0 Subito Per noi Laggando E poi risulta E non lagga Sta cosa non è impossibile Non lagga Una sofferenza Una sofferenza Così dentro Subito 1 a 0 Fallo Fallo Occasionissima Per noi Prima si è dato tante soddisfation Mettiamola un po' più larga Non così larga Ok L'Abiad L'Abiad Oh mio dio Grande intervento Grande doppio intervento E allora Assaidi può ripartire Può ripartire Assaidi Merda Assaidi dove va Va dove decide lui Mandalo Non così corto Magari ma va bene Gran stop Mezz'ora Per stoppare un pallone Mezz'ora Per stoppare un pallone Mandalo di là Ottima 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 carsella Ottima carsella Carsella Mortacci tua Bravo Bravo Questo fai skill e tornandietro Non ha capito il senso del gioco Vai Come on carsella Come on carsella Gonzales 2 a 0 Grande per noi Grande 2 a 0 per noi signori Meri carsella Gonzales 2 a 0 per noi Cioè regà Stanno slittando i giocatori Stanno cazzo slittando i giocatori Oh ma che no vabbè No l'ha stoppata sul serio regà L'ha stoppata sul serio Dai Qualcuno faccia qualcosa Cosa fa quello che ballava il Can Can In campo Ragazzi la difesa altra Stanno in 4 Nella metà campo offensiva Finisce qui signori 2 a 0 Meritatissima questa Meritatissima questa vittoria Con l'aggo Tutto Con quello che c'ha la Neymar Una vittoria di cuore Comunque signori Spero che questo video vi sia piaciuto Prossimo episodio Vedrete probabilmente La squadra del O del portogallo O della corea Evito di registrarlo oggi Perché se laggano tutte così Non voglio bestemmiare Comunque noi sentiamo la prossima Lasciate un like E un commento Arriviamo a 20.000 like Per questo video Bella Ricordate che in descrizione C'è G2A per giochi E abbonamenti Scontatissimi Grazie ciao in Grazie mille Grazie mille Grazie mille